Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Ancora un grande personaggio nella nostra regione. Questa mattina la medaglia d'argento di tiro al volo alle Olimpiadi di Londra 2012 Massimo Fabrizi ha incontrato gli studenti a Larino in occasione del progetto Il tiro al volo nella scuola. I giovani incontrano il campione organizzato dalla FITAB Molise fortemente voluto dal delegato regionale Giuseppe Erra in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con il patrocinio del CONI. Siamo con il pluricampione mondiale di tiro al volo medaglia d'argento all'Olimpiadi di Londra 2012 Massimo Fabrizi. Oggi un incontro con gli studenti all'Istituto Superiore di Larino. Sì esatto. Credo che il nostro sport dove la notorietà non è molto alta come altri sport maggiori. Credo che sia importante conoscere giovani che possono frequentare questo sport per darci una nuova linfa che è importante per continuare questo sport meraviglioso. Ora facciamo un passo indietro. Come è nata per te la passione per questo sport? Il tiro a volo? Questo risale ormai diverso tempo fa. Io ho un genitore, mio padre, che frequentava i campi da tiro. Da quando avevo nove anni ho iniziato a frequentare le strutture accompagnate da mio padre. Da lì è nata questa passione. Una passione quindi come si può coinvolgere uno studente, un giovane a iniziare a intraprendere questo sport? Beh questo è una cosa importante, bisogna dire che questo è uno sport pulito dove si fa all'aria aperta. Quindi il giovane ci si appassiona da solo perché è uno sport pulito dove non ci sono situazioni di doping, dove si usa un'arma. Quindi praticamente il livello dei ragazzi che fanno questo sport sono più maturi di altri ragazzi che hanno la loro stessa età. Ecco, vogliamo ricordare un po' la tua catena, alcuni dei maggiori e dei più importanti successi, alcuni di olencati o pluricampione mondiale, la medaglia d'argento alle Olimpiadi 2012 di Londra, ma c'è tanto altro. Sì, ho vinto diverse gare. L'ultima risale a un paio di mesi fa, la prova di Coppa del Mondo dove assegnavano la carta olimpica per l'Italia e siamo riusciti a portarla a casa. Sicuramente il traguardo più importante è la medaglia d'argento alle Olimpiadi, sicuramente. Emozione fortissima, ricordiamo tutti. Sì, ancora io, ricordo anche io. Certamente. Allora, in Molise, che è una piccola regione, questo sport sta crescendo. Quale invito quindi vuole fare a tutti i giovani, non solo quelli di Larino ma anche ai molisani? Di provare questo sport, di provarlo e poi questo sport è una cosa particolare che ti entra dentro, ti entra nel sangue e poi non ne puoi fare a meno, quindi almeno di provare una volta. Un evento dunque possibile grazie alla scuola e alla federazione regionale che sta investendo tanto su questo sport? Sì, questa è una cosa importante. Infatti faccio i miei complimenti agli organi regionali del Molise e della FITAV che sono impegnati a fare una bella cosa. Automobilismo esattamente tra un mese, il 24 maggio, il 23esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini sarà per la prima volta prova del campionato europeo. Ne abbiamo parlato con il delegato regionale allo sport. Carmelo Parpiglia, delegato allo sport della regione Molise, dunque il prossimo 24 maggio ci sarà questa prova del Memorial Battistini, per la prima volta una tappa europea, un impegno vostro della regione Molise importante per questo riconoscimento a livello internazionale. Sì, un evento internazionale. La regione partecipa patrocinando la manifestazione, impegnando risorse anche finanziarie perché al di là della valenza sportiva c'è anche la possibilità di promuovere, di veicolare un'immagine positiva del nostro territorio, così come ha fatto anche per altre iniziative come per esempio il Giro d'Italia che sarà uno spot in Eurovisione sul Rai 3 per il nostro bellissimo Molise, anche altri eventi, i 10 km di corsa su strada a Isernia sono degli assoluti internazionali e poi anche altri piccoli interventi ed eventi sportivi su tutto il territorio regionale. Infatti la regione Molise in questi ultimi due anni, dopo un blocco di due o tre anni, ha finanziato tutti i capitoli che riguardano lo sport, l'attività sportiva, gli eventi sportivi, l'impiantistica sportiva, la disabilità e quindi è un impegno fortissimo, determinato affinché possa essere valorizzato lo sport e tutti i valori che porta dietro, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'inclusione, dal punto di vista della formazione dei nostri giovani e dei nostri ragazzi. Ecco dunque, diciamo che non solo come dicevamo vicinanza al ciclismo, all'automobilismo ma anche a tutte le altre discipline sportive, c'è una legge, si può fare appunto una domanda per ottenere il finanziamento, ma va detto anche che anche a livello delle infrastrutture c'è quest'ultima nozione per quel che riguarda l'area del Selva Piana con i soldi che sono di fatto stati sbloccati da voi. Sì, la legge dello sport appunto, lo ripeto, è stata finanziata ormai da due anni, da quando io sono consigliere delegato allo sport con l'avvento della nuova amministrazione. Abbiamo finanziato tutti quei capitoli che riguardano per esempio le società di basket, di pallavolo, di calcio, come per esempio il Campobasso Calcio, oppure per quanto riguarda l'impiantistica un evento importante è stato salvare dall'apparenzione amministrativa agli 800 mila euro del Stadio Romagnoli. L'impegno veramente profondo, forte da parte mia e anche dalla parte del Presidente Frattura, se no quei soldi sarebbero andati persi e invece si darà la possibilità al Comune di Campobasso, alla società del Campobasso, ai cittadini potesse usufruire di una riqualificazione e quindi di un nuovo restyling del Selva Piana. Con questi e anche altri interventi che riguardano la messa in sicurezza, la messa in norma di tanti piccoli palestre e campi che stanno in periferia perché riteniamo che l'impiantistica sportiva ha un valore simbolico ma anche sociale perché dà la possibilità di una pratica sportiva a tutti i ragazzi della nostra comunità, del nostro territorio. Un'ultima cosa, proprio per sottolineare questa vicinanza, da due anni è stata organizzata la giornata dello sport che è stato un po' il fiore all'occhiello per quel che riguarda le manifestazioni a livello molisano, anche un riconoscimento da dare per tutti gli atleti, anche quelli che magari hanno meno le luci della ribalta. Sì, naturalmente la giornata dello sport è un'ulteriore conferma di quanto questa regione creda nei valori e nella possibilità, nell'opportunità non soltanto sportivo ma anche economico che quello sport può dare. In quell'accosione vengono premiati i talenti, i talenti della nostra regione che spesso sono dimenticati perché magari appartengono a sport minori, come magari, non dico tanto l'atletica che magari è stato anche il punto di riferimento delle due manifestazioni, ma anche altri sport dal judo alla pesistica, a tanti altri sport che naturalmente vedono impegnati società, istituzioni, dirigenti e allenatori e quindi bisogna riconoscere il premio di chi raggiunge dei risultati a livello nazionale e non limitato al territorio, ma è evidente che noi dobbiamo premiare chi arriva primo a livello nazionale e europeo, addirittura mondiale. Veniamo adesso ad un altro campione, questa volta molisano, Andrea Lalli, il podista di Campochiaro, presente a Boiano in occasione della presentazione della gara a tappe di corsa in Molise. Andrea ai nostri microfoni ha raccontato i suoi prossimi appuntamenti. La presentazione dell'undicesima gara della corsa sui tratturi, presente anche Andrea Lalli, campione dell'atletica e punta di diamante dell'atletica italiana, non solo molisana, ma italiana, che in questo momento ha avuto qualche problemino fisico, ma sicuramente ritornerà alla grande sulle piste, ma soprattutto presente per testimoniare l'inizio, il ritorno alle società di atletica qui sul territorio di Boiano. Sicuramente, come ho sempre detto, il Molise ha bisogno di un rinnovo generazionale per quanto riguarda l'atletica leggera. Oggi qui presente appunto per presentare la nuova società di atletica qui a Boiano e sono felicissimo di questa cosa perché comunque in giro ci sono un sacco di ragazzi capaci che possono seguire le orme mie e anche le orme di Stefano Cialella, di Lina De Socio, Luciano Di Pardo, dato che comunque in futuro ci sono stati tanti campioni nella nostra regione. Quindi sono felicissimo di questo ritorno, anche perché comunque Boiano ha sempre avuto una società di altissimo livello con la rilega Boiano e quindi auguro a loro, a questa nuova società, di portare qualche giovane ad un grande successo. Presenza migliore forse non poteva esserci, quella di Franco Mascolo che è stato lo scopritore di Mennea, il più grande in assoluto, soprattutto per il sud Italia, un grande atleta nato e vissuto in una zona dove c'erano carenze di impianti come ancora tutt'ora ci sono, ma speriamo che a Boiano la pista si possa anche rifare un giorno. Sicuramente il professor Mascolo infatti nel suo intervento stava comunque parlando che noi non abbiamo proprio nulla di meno a ragazzi del nord Italia, la differenza la fanno comunque le strutture, siamo carenti di impianti e questo comunque ci limita nell'attività. Speriamo che comunque la regione molise creda di più nell'atletica leggera e possa darci una mano. Ecco e tu sei proprio il testimone perché ti alleni fra tante difficoltà perché purtroppo in zona come diciamo non c'è una pista idonea ma soprattutto tu corri su strada perché ormai punti alla maratona anche con la tua testartaggine, continui ad insistere pur se c'hai qualche problema fisico ma speriamo si risolva su. Sì, su questa specialità cioè la maratona ancora non riesco ad ingranare, il mio fisico ancora diciamo non assorbe bene gli allenamenti così lunghi, infatti ogni tanto mi crea qualche problemino. Domenica scorsa sono stato alla maratona di Rotterdam dove comunque stavo correndo quasi sul minimo per le Olimpiadi però purtroppo al 35esimo chilometro ho avuto un problema al fianco che non mi ha permesso di finire la gara. Però comunque io sono testardo e quindi insisterò anche su questa specialità. Ecco nella vita comunque bisogna sempre insistere per ottenere grossi risultati e menè a cielo in sé. Come diceva anche il mio primo allenatore Cristian Carbone non è forte chi non cade mai ma chi cadendo trova la forza di rialzarsi quindi io insisto e con la speranza che prima poi prenderò anche la maratona giusta. A proposito di Atletica, mercoledì prossimo la Sala Conferenze del Museo Storico della Campana di Agnone ospiterà la presentazione del libro Lo Sport del Doping e chi lo subisce, chi lo combatte. Per scritto da Alessandro Donati l'evento è stato organizzato dall'Atletica Agnone in collaborazione con il locale gruppo comunale Aido, ospite Martina, una bambina di 6 anni, testimone alla D. Corri Labruzzo 2013 che ha dovuto fare EPO per guarire dalla leucemia. Campionato di Serie D per la 32esima, il Campobasso senza defezioni domenica sarà ospite del già retrocesso Celano. L'Olimpia Agnonesi ospiterà al Civitelle il Matelica. La squadra Granata potrebbe essere rinforzata da alcuni giocatori della Juniores, viste le tante assenze della prima squadra dovute al virus intestinale che ha decimato la Rosa. Match casalingo anche per il Termoli, che ospiterà il San Nicolò. In palio ancora punti per la salvezza diretta. 32esima giornata nel torneo di Serie D, trasferta per il Campobasso a Celano, Agnonesi e Termoli impegnate a domicilio contro rispettivamente Matelica e San Nicolò. Campobasso pronto a chiudere definitivamente il discorso relativo ai playoff. Un successo garantirebbe ai Rosso-Blu la certezza di disputare la post-season playoff. Gara da vincere contro gli abruzzesi già retrocessi in eccellenza. Motivazioni alte per i lupi chiamati a cogliere il secondo successo consecutivo. Mister Vullo ha praticamente tutti gli effettivi a disposizione per archiviare l'obiettivo stagionale. Come detto rientra dal turno di squalifica Fusaro, che potrebbe partire nell'undici iniziale a discapito di Scutieri. Ballottaggio aperto per affiancare Minadeo e gli under di Gioacchino e Nicolai in difesa. Maggi ovviamente tra i pali, in mediana Marinucci e Vitone in vantaggio su Pani. Ricordiamo che in caso di successo i lupi potrebbero anche distanziare ulteriormente la quinta posizione. Infatti il Chieti è impegnato sul difficile terreno di Giulianova e il San Nicolò a Termoli. Proprio i giallorossi al Cannarsa impegnati in una gara sicuramente fondamentale per la salvezza diretta. Meno due il distacco dalla Re Canatese impegnata domenica nello scontro diretto contro il Castelfidardo. Gara non facile per gli Adriatici. Il San Nicolò è con pagina organizzata e ancora in lotta per i playoff. I Teramani infatti accusano tre punti di distacco dal Chieti, quinto, e non hanno abbandonato la possibilità di disputare i playoff. Mister Pino Di Meo deve rinunciare agli squalificati Romano e Vitale. Il primo sicuramente più pesante perché fulcro del gioco è del centrocampo giallorosso. Rientra in difesa Falco, una pedina importante nello scacchiere del tecnico bugliese. Speranze giallorosse affidate all'ex di turno Ragazzu. Il bomber Sardo è pronto a portare al successo i suoi compagni. Infine, nessun appello per l'Olimpia agnonese, che al Civitelle contro il Matelica ha bisogno della vittoria. Il successo è vitale per i Granata, per sperare ancora nella salvezza. Anche in considerazione del difficile, per non dire proibitivo, impegno della Vispesaro in trasferta contro la vicecapolista Fano. Settimana complicata per gli altomolisani. Come raccontato in questi giorni, un virus intestinale ha messo KO quasi tutta la squadra. Allenamenti ridotti e poche presenze. Sembra scongiurata però l'ipotesi del rinvio per garantire la regolarità del torneo. Piano piano l'emergenza sta rientrando e Trellini spera di avere tutti a disposizione domenica per questo match fondamentale. Ciclismo, ultimi dettagli per la seconda edizione del trofeo Spinete Mountain Bike. Quest'anno il circuito matesino è valido come prima tappa del campionato cross country. L'evento è stato organizzato in collaborazione tra la Matese Mountain Bike e l'amministrazione comunale di Spinete. Domenica l'appuntamento è alle 10 da Piazza Largo Fontana per il via alla gara. A proposito del trofeo Spinete sarà la gara del debutto per la Molise Tour Bike del presidente Giuseppe Gennarelli. Sarà l'occasione per testare il livello della squadra dopo i duri allenamenti invernali. Calcio giovanile prosegue il torneo di San Giorgio organizzato dalla scuola calcio Mirabello. Ieri in campo gli esordienti 2002 ha vinto il Mirabello secondo i Santi Pietro e Paolo. Terza l'Olimpi Chisernia a completare la classifica Virtus Boiano, difesa grande e Cus Molise. Oggi il programma del torneo prevede le gare dei giovanissimi 2000 e piccoli amici dal 2006 al 2009. In attesa di domani quando scenderanno in campo le società professionistiche di Napoli, Bari e Pescara. Lorenzo Tizzani è allenatore della scuola calcio Mirabello. Sono evidentemente un momento di confronto perché quando si partecipa a tornei voi lo fate spesso, però questa volta lo fate sul vostro campo e quindi è un momento di confronto importante. Sono sempre confronti importanti per la nostra scuola calcio, soprattutto quando vengono realtà da fuori regione ma anche dalla provincia di Sernia per noi ragazzi e tecnici è sempre un momento molto importante e anche di crescita della scuola calcio. Voi lavorate 360 gradi, l'attività vostra comincia a settembre, probabilmente l'ultima settimana d'agosto e finisce a maggio. Sì, noi abbiamo iniziato dopo ferragosto con la categoria giovanissimi allievi e noi terminiamo con i playoff dell'allievi, dei giovanissimi a maggio, poi i vari tornei che abbiamo estivi di giugno e poi a luglio quindi praticamente abbiamo pochissimo tempo liberi. Avete qualche ragazzo particolarmente interessante? Ce ne abbiamo tra le categorie 2005, 2002 e 2001 qualche ragazzo veramente interessante. Speriamo che col tempo migliorino e li possiamo trovare sui campi anche importanti. Angelo Di Camillo, tu tra l'altro sei proprio di Mirabello, quindi voglio dire ci metti anche il cuore. Hai giocato col Mirabello, abbiamo fatto un viaggio insieme in Canada, ce lo ricordiamo tutti e due. Un'esperienza bellissima, tra pari. Un'esperienza veramente indimenticabile, questa è la parola giusta. Tu sei allenatore degli allievi che nella circostanza non partecipano perché questo non è un torneo aperto alla categoria allievi però è comunque un momento importante anche per i tuoi ragazzi. Sì, tra parentesi oggi abbiamo giocato con gli allievi e abbiamo raggiunto un'ottima posizione, siamo arrivati secondi. Da sabato iniziamo i play-off, giocheremo col Venafro. Comunque per quanto riguarda il torneo anche i nostri ragazzi saranno impegnati a dare mano a questo tipo di manifestazione. Senti, te lo ricordi il campo in terra abbattuta, ora è tutta un'altra cosa. Per i ragazzi secondo me è una manna dal cielo perché è una cosa eccezionale il cammino in erbetto sintetico. Noi ci lamentavamo del campo, dei buchi, dei palloni che pesavano. Adesso hanno tutti i ragazzi, devono solo poter giocare. Ecco, i momenti importanti per la categoria allievi, a parte i campionati, ma anche voi parteciperete a qualche manifestazione di prestigio? Allora, dovremmo fare il torneo a Pestum, speriamo di non farlo perché non farlo significa arrivare in fondo ai play-off. Dunque, noi speriamo di non farlo. Nel caso che dovessero andare male i play-off, parteciperemo a questo torneo a Pestum riservato alla categoria 99-98. Quindi un momento di crescita, se mi consenti, per il calcio, ma insomma anche per il Paese. Sì, anche perché... Il Paese è al centro, il Mirabello è al centro dell'attenzione. Anche perché quest'anno siamo riusciti a fare quattro squadre regionali, due giovanissimi e due allievi regionali. Cioè, con le varie categorie. Ognuno c'è la categoria 99 giovanissima e la categoria 2000 giovanissima. E due squadre di categoria allievi. Bocce prenda il via questo pomeriggio. L'undicesimo Memorial Lelio Pallante, organizzato dalla bocciofila frosolonese. Oggi la parata dei campioni, con 16 atleti di A1 che si sfideranno al bocciodromo di Frosolone. La fase finale prenderà il via alle 18. Domani, invece, la gara individuale di Bocce, con 96 partecipanti. Calcio a 5 regionale, ultima dei campionati regionali. Vediamo le gare della C1. Arcadia, Campopasso, Futsal, Chaminade, Santimoteo, Kemarin, Saracena. Mickey, Mike, Castel del Giudice, Pettoranello, Bisaccia, Pozzilli, Venafro, Sant'Elena, Bonepro. Per la C2, Colletorto, Capracotta, La Nebbia, Vasto Girardi, Casalnuvo, Gambatesa, Cassiopero, Caravindola, Montorio, Santa Croce, Pietracupa, Sestese, Cerce, Fossaltese. Manca la matematica alla Chaminade che si prepara al ritorno in Serie B. Si è conclusa a martedì anche la stagione agonistica del Venafro Calcio a 5. In gara 1, andata in scena sabato scorso al Palafraraccio, il team di Scarpitti ha impattato sul 4-4 contro la Virtus Rutigliano. In gara 2, disputata in terra pugliese martedì, serviva una vera e propria impresa ai bianconeri alla ricerca del risultato pieno. Il Rutigliano ha dimostrato però di avere qualcosa in più, come del resto aveva espresso durante la stagione regolare. 6-2 il finale in favore dei pugliesi, decisiva la tripletta del laterale Lestingi nel secondo tempo. Dunque Rutigliano avanti e stagione conclusa per il Venafro, sicuramente un'annata da ricordare. Ottimo il campionato dei bianconeri, quindi in classifica, è arrivati ad un soffio dai triangolari playoff per accedere in Serie A2. Venafro che nella prossima stagione potrà confermare gli obiettivi maturati quest'anno e magari chissà poter puntare a qualcosina in più. Di certo vacanze meritate per la società, pronta a ripartire come del resto le altre due nostre rappresentanti, Isernia Calcio A5 e Vuin Campobasso. Alle tre sorelle dovrebbe aggiungersi a questo punto la Chaminade. Ci spostiamo nel torneo di C1 regionale. Sabato scorso la vittoria nello scontro diretto contro il Bonefro ha lanciato i Campobassani con oltre un piede e mezzo nel torneo cadetto. Domani l'ultima giornata, palestra Sturzo ornata a festa per la certificazione del passaggio in Serie B. Avversario l'ultimo della classe, il Santimoteo. Ricordiamo che il Venafro si è ritirato dal torneo e non ci sarà una retrocessione diretta. I termolesi hanno solo tre punti e giocheranno i play-out in trasferta contro l'atletico Bisaccia. Insomma, sì che può succedere sempre di tutto, ma la gara di domani sembra una vera e propria formalità per la Chaminade. Bonefro in trasferta a Sant'Elena Sannita, match con poca rilevanza per entrambe. La squadra di Tavone scottata per la sconfitta contro la Chaminade giocherà i play-off con i favori del fattore campo. Probabile avversario la Saracena di San Giuliano di Puglia, che deve però vincere in trasferta contro la Camarine con Pagine che disputerà il play-out contro il Pozzilli, destinata a non cambiare la situazione dell'altro play-off. L'Arcadia terza ospita la Futsal Campobasso, con l'obiettivo di mantenere il distacco sulla Mickey Mike Futsal, che attende il Castel del Giudice, per giocare lo spareggio ovviamente sul terreno amico. Chiude il programma pettoranello atletico Bisaccia. A proposito della vice capolista di C1, il Bonefro, ai nostri microfoni l'assessore allo sport Vaccaro. Domenico Vaccaro, assessore al Comune di Bonefro, tantissima gente qui al campo di calcio a 5 per questa partita, finita male però comunque la stagione rimane positiva. Sì, diciamo che è positiva perché è sempre un campionato di C1, siamo contenti, pure questo risultato amaro. Però la cosa che io voglio ringraziare tantissimo è la forza di questi ragazzi di Bonefro che avendo poche risorse economiche, sportive, siamo riusciti a fare un bellissimo campionato e ci voleva la vittoria che meritavano i ragazzi questo regalo. Diciamo era un regalo che Bonefro meritava perché sono diversi anni che proviamo a stare sempre in vetti a questi campionati. Poi il ragionamento che ci penalizzano un po' a Bonefro penalizza, sono le strutture, non abbiamo le strutture. Abbiamo avuto un po' di problemi con San Giuliano di Puglia che avevano le strutture, non hanno dato l'adesione a Bonefro. La cosa mi dispiace tantissimo perché come assessore l'anno scorso ho fatto fare un campionato a San Giuliano dando disponibilità all'impianto spogliatoio, tutto, con un minimo contributo e volevo proprio, guarda questa mi è rimasta tanto la cosa perché ci tenevo tanto perché i ragazzi qua il periodo è più inverno che estate e ci tenevo tanto che loro davano, logicamente pagando, davano la disponibilità della struttura a Bonefro. Io spero che, non posso sperare più perché oramai il campionato labbino lo facciamo più, pure se uno lo voleva provare, che le strutture vengono fatte proprio per dare, proprio perché ci sta lo sport, che lo sport è vita, lo sport ti comunica con le persone, questi risultati rafforzano, sono tante cose positive che è quello che dobbiamo vedere realmente perché avere una struttura, poi farla solo per noi non esiste perché la devi fare con i soldi tuoi. Questo era quello che ci tenevo tanto a dirlo perché dovevo fare, però sono stato un po' impegnato. Si rivota, io come assessore ho presentato tre progetti di copertura, io se ci sarò la prima cosa è che farò la copertura all'impianto di Bonefro perché non abbiamo strutture, ma pure per fare oltre calcio a 11, scuola a calcio per i ragazzi, perché qua il periodo è infernale, senza la struttura c'è poche possibilità di crescere, di fare tante cose. Questo è il mio pensiero. Saluto tutta la società, mi dispiace per questo risultato, però penso che sono ragazzi che capiscono che si vince e si perde. Assessore, ci proviamo l'anno prossimo? Sì, ci proviamo, ci proviamo. La prima cosa che io posso, in un anno cercheremo di fare, speriamo questa struttura perché già avviata, già un progetto ci sta, perciò burocraticamente un po' di tempo ci vuole, però vediamo di metterci l'impegno. Per il campionato Juniors nazionale prende il via domani la post-season, il campo basso sarà ospite della San Benedettese per i play-off, fischio d'inizio alle 16. Il Termoli invece ha chiuso la sua stagione la scorsa settimana, campionato intenso per la Juniors giallorossa, ne abbiamo parlato con la penna. Già lui giro a penna, ma c'era il fuorigioco nel gol che ti è stato annullato? Non lo so, secondo me no, perché io ho tagliato dietro le spalle del difensore, però il guardalino ha visto così, ma ci sono i miei dubbi. Senti, ma secondo te questo ruolo d'attaccante che ti ha scoperto panico nelle ultime giornate e ti ha provato soprattutto, può essere un'alternativa al ruolo di difensore centrale? Ma il mio ruolo è il difensore centrale, però se i mister con cui giocherò avranno la necessità di mettermi avanti, non c'è problema, mi adatto facilmente. Nel ruolo di attaccante abbiamo visto che sei giocare anche bene con i piedi, quindi un segnale più che positivo. Sì, ho provato a dare la mano ai miei compagni, qualche sponda, qualche colpo di testa, ci ho provato. Senti, questo Termoli non chiude in bellezza, però comunque il campionato è positivo, alla grande, questo campionato Juniors, siete cresciuti tanto, avete maturato esperienza a strada facendo, anche col fatto che siete aggregati in prima squadra, per te sicuramente il risponso più bello, quello della prima squadra e poi delle convocazioni che ho avuto anche in rappresentativa. Sì, sicuramente la più grande soddisfazione sia la rappresentativa nazionale che con l'allievi, però è andata bene tutto sommato, anche perché molti di noi sono stati aggregati in prima squadra nel corso dell'anno e abbiamo fatto le nostre esperienze. Senti, questo gruppo potrà continuare insieme, magari in una prima squadra del Termoli? Ma speriamo, vediamo come la situazione qui a Termoli, se si riesce a fare qualcosa di buono, noi siamo sempre a disposizione. Domani a dalle 17 a Macchiagodena torna l'appuntamento con la gara podistica su strada di circa 10 km, trofeo Madonna dell'incoronata terza edizione. Non vale la pena di perdere un entusiasmante pomeriggio di festa e di sport. Domani, dalle 17, nella frazione incoronata di Macchiagodena, ci sarà questo pomeriggio entusiasmante di festa e di sport. Bene, era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.